All'armi che vengono giù e scendono in mezzo a questa casa e stanno scendendo in mezzo a via avete finito la paura la dovete finire ma la dignità è lì, la dignità ma vengono cagliati o no state a casa, passate il telefono a mano scendete in mezzo a via vi dovete scordi ma lasciamo raggiungiamo la verità perché non si stessa in mezzo